Aggiornamenti di formazione, la Juventus in mattinata è partita in direzione Milano, è uscita anche la lista dei convocati, nessuna sorpresa, non c'è Dujan Blauvic che neanche è partito con la squadra per questa piccola distorsione, lavoro mirato, un po' di riposo, ma in pochi giorni, da quanto mi risulta, da quanto vi ho detto già nel primo contenuto odierno, il serbo tornerà regolarmente in gruppo, quindi nessun allarme, però non è pronto per giocare questa partita e quindi non si rischia, meglio fare un allenamento in più alla continassa. Quali sono gli aggiornamenti legati alla formazione che questa sera scenderà in campo a San Siro contro l'Inter con l'obiettivo molto chiaro, accedere alla finale di Coppa Italia? Allora, confermatissimo ovviamente tra i pali Mattia Perin, perché il portiere di questa manifestazione sta disputando una grandissima stagione, al centro della difesa si rivedrà Leonardo Bonucci, e questa, se vogliamo, è anche una notizia, perché personalmente ipotizzavo che magari potesse giocare titolare tra Bologna e Lecce, partita quest'ultima infrasettimanale della prossima settimana, e invece tutte le strade portano a una partenza dall'inizio questa sera. Come vi ho detto, questa mattina ci sarà sempre dall'inizio Gleison Bremer, che ha smaltito l'infortunio e quindi è pronto per giocare, nell'ultimo match è stato tenuto fuori scopo precauzionale, ma la vera novità è che dovrebbe toccare dal primo minuto, come Braccetto Mancino, ad Alexandro e non a Danilo. Nessun infortunio per Danilo, scelta tecnica probabilmente in base alle rotazioni, pensando alla longevità della stessa partita, chi lo sa, ma le ultime indiscrezioni danno un pacchetto a retrato formato da tre interpreti, quindi al centro della difesa Bonucci, alla sua destra Bremer, alla sua sinistra Alexandro. A centrocampo, a destra, toccherà e non potrebbe essere altrimenti a Mattia De Sciglio, in quanto non è che ci siano grosse alternative, considerando come Juan Quadrado sia squalificato per questa partita e per altri due turni, sempre da scontare, in Coppa Italia, quindi eventualmente in un'ipotetica finale il colombiano non ci sarebbe. A sinistra, anche se non è al top, ovviamente tocca Filip Kostic. A centrocampo, Miretti in vantaggio su Fagioli, e poi ci saranno a completare il reparto. Manuel Locatelli davanti alla difesa è l'imprescindibile duca Adrienne Rabiot. L'altra novità è legata all'attacco, sicuro di una maglia titolare Angel Di Maria, ma c'è il sorpasso di Federico Chiesa su Arcadius Milik. Vi avevo detto che una delle coppie provate era quella formata dal polacco insieme a Di Maria, ma invece nelle ultime ore Chiesa ha praticamente vinto la concorrenza, e quindi se così fosse si va senza punti di riferimento, con Chiesa falso 9 e con Di Maria ad agire alle sue spalle. Ricapitolando le ultime di formazione, in porta Mattia Perini, in difesa da destra verso sinistra, Bremer, Bonuccio e Alessandro, a centrocampo, sempre a destra verso sinistra, De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic, in attacco Di Maria alle spalle di Chiesa. Allora, vediamo se queste indiscrezioni verranno confermate, però se così fosse sarebbe questa una formazione che potrebbe pensare anche al fatto che le rotazioni siano decisive. Eventualmente Danilo, eventualmente Fagioli, Barra Paredes, eventualmente Milik, eventualmente Pogba, quindi effettivamente qualche cartuccio in panchina ci sarebbe e potrebbe fare la differenza. È ovvio che se giocherà la coppia di Maria Chiesa, l'obiettivo là davanti è molto chiaro, fare in modo che si possa attrarre la loro difesa, le loro marcature, senza dare punti di riferimento, perché se tu giochi con Milik, comunque il loro centrale va a fare un duello fisico, sa che la Juve si può appoggiare al Polacco, spondere e quant'altro. Così invece, anche all'interno della stessa partita, Di Maria e Chiesa possono scambiarsi le posizioni, comunque Di Maria è un giocatore che ama sbagliare tutto il fronte offensivo, Chiesa pure, seppur con caratteristiche differenti. È una scelta curiosa, legata anche al fatto che poi non avendo Vlaovic, magari la prima punta old school te la tieni per il proseguo della partita. Tra l'altro manca anche Moise Ken, che entro una decina di giorni, ieri Allegri in conferenza ha detto che auspica di recuperarlo, però mancano due prime punte, l'unica a disposizione è Milik, e quindi cerchi magari di fare in modo che possa essere utile a gare in corsa. Per il resto, un centrocampo che dovrà lavorare tanto, un centrocampo che dovrà fare la differenza a livello di fisicità, musica per le orecchie di Locatelli e Rabiot, un po' meno per Miretti, che è un giocatore un po' più, diciamo, meno prestante dal punto di vista fisico, ma che è molto utile tatticamente, un giocatore che ha tanto atletismo e quindi chiudere le linee di passaggio, raddoppiare, ecco, mi aspetto che oggi dia una grossa mano a Mattia Di Sciglio, se dovesse poi partire lui a destra. Molte volte, quando c'è Miretti, Allegri spesso e volentieri utilizza Rabiot come mezzala a destra e sposta lo stesso Miretti, sì, vediamo cosa decide, però è una formazione questa, un po' sperimentale, mettiamola così, ma che può reggere il colpo e può fare in modo che poi attraverso i cambi la Juventus possa cercare di venirne a capo. Non sarà semplice, nella maniera più assoluta, anche considerando tutto ciò che è accaduto nel corso del primo round a Torino, ma l'obiettivo è nell'obiettivo, provare in fine Coppa Italia, perché poi significherebbe vedere da vicino un trofeo che puoi portare a casa in una finale, molto probabile, con la Fiorentina e vai in fine Coppa Italia in virtù della nuova regola della Supercoppa Italiana automaticamente, automaticamente sei anche lì, nel Final Four, Supercoppa Italiana che alza l'assicella tra tutto se la porti a casa sono 7 milioni e sono soldi, quindi questo è un match importante, è un match importante per cercare di dare lustro a un'annata estremamente complicata, estremamente difficile, un'annata che sta provando tutti, ma dico tutti i tifosi giuventini dal punto di vista mentale, soprattutto, anche fisico alcuni, però si può fare, si può fare e quindi la Juve deve andare a San Siro con l'intenzione di poter tornare a casa con la qualificazione, oggi i bianconeri dovranno essere brevi a non cadere nelle trappole, che poi inevitabilmente verranno innescate dai giocatori dell'Inter, buttarla anche magari un po' sulla polemica, quindi mi aspetto grande intelligenza da parte dei giocatori della Juve e mi aspetto la lucidità giusta per cercare magari di colpire nei momenti opportuni. Ribadisco, partiva molto complicata perché rispetto al match d'andata l'Inter è cresciuta, è una squadra che adesso è in semifinale di Champions, è una squadra che anche in campionato ha ritrovato un passo, una squadra che sta ritrovando Lukaku, che proprio nell'ultima partita ha fatto molto bene, graziato per la sfida di questa sera direttamente dal presidente della FGC, Gabriele Gravina, e quindi niente, ci vuole la lucidità e molto probabilmente la formazione che scenderà in campo è quella che abbiamo analizzato assieme con delle novità. Quindi di giornata, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e monitorate i miei social e soprattutto gol.com per tutti gli aggiornamenti provenienti da San Siro. Grazie.